Categorie Internet e Multimedia, sezione Social Media, per il cliente Metal Galante S.P.A. Un grande progetto di riprending di una grande azienda di macchine per le costruzioni, che compete con multinazionali di successo. Colori e descrizioni si evidenziano per la loro autorevolezza tecnologica. Vince la cura di Bronto l'agenzia Gruppo ICAT. Grazie per la visione! 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 Everywhere, we can dream big, and go beyond our limits, everywhere, we can live great experiences, and find the beauty in every day, again and again, everywhere, we can make it easy, to create solid foundations for our ties, everywhere, we can provide certainties, and lay the groundwork for a better future, Karmix, everywhere you build.